Passo importante verso la salvezza per l'Alta Mura che torna a far valere la legge del Tonino d'Angelo superando 2-1 la Virtus Matino, sconfitta amara per il team Salentino guidato da Branà, sempre più ultimo in graduatoria. Tre punti pesantissimi per i Murgiani che probabilmente avrebbero meritato un risultato più ampio per le tante occasioni non finalizzate. Dopo una prima fase di studio la squadra di Di Benedetto, appiedato per un turno dal giudice sportivo e sostituito da calabrese a trovare il vantaggio al primo affondo. È il diciannovesimo quando Abreu scatta alle spalle della difesa, rientra sul destro e calcia. Leucci respinge ma sulla palla si avventa Cancegliere che incrocia sul secondo palo e firma l'1-0. È dominio bianco-rosso e dopo appena due minuti Baraggi da fuori manca di poco il raddoppio. La sua conclusione sfiora il palo. Il Matino in evidente difficoltà tenta la reazione al ventottesimo con una bella percussione di Palmisano ma la punta salentina viene chiusa providenzialmente da Salle e Clemente. Al trentasettesimo nuova grande chance per l'Altamura con l'assist di Molinaro per Abreu. Il suo tiro ad incrociare coglie il legno all'Eucci ormai battuto all'intervallo Murgiani meritatamente avanti di una rete. Ma l'inizio di ripresa è da incubo per i padroni di casa che dopo due minuti subiscono la rete del pari. Sugli sviluppi di un corner lo stacco vincente è di Stauciuk che batte spina per l'1-1. La reazione dell'Altamura è rabbiosa e all'ottavo rimette già la freccia. Angolo di Lucchese, tocco di testa di Salle, tiro a rete di Cancegliere che firma il 2-1 e la sua doppietta personale. Un duro colpo per i salentini che ci provano al ventiseiesimo con la conclusione dalla distanza di Calò, sfera alta. I Murgiani continuano a spingere al trentottesimo, grande occasione per Cassiello lanciato a rete. Il suo tiro trova l'opposizione di Leuci. Nel finale il matino prova il tutto per tutto e al quarantaduesimo ci vuole un grande intervento di spina per neutralizzare la conclusione di Calò. Sull'acrobazia di Palmisano nell'ultimo minuto di recupero si spengono le speranze del matino. L'Altamura conquista la quarta vittoria della gestione di Benedetto e sale in classifica a 29 punti. Mercoledì i Biancorossi, sempre al D'Angelo, affronteranno il casarano dell'ex tecnico Monticciolo per il recupero della diciannovessima giornata. Situazione sempre più delicata invece per il matino che domenica ospiterà il Gravina.